Buon Dante D, sono Riccardo Gualdo, socio corrispondente dell'Accademia della Crusca e vivo a Roma. L'immagine comune della Divina Commedia è quella di un monte altissimo, di un mare navigabile solo dopo lungo studio e preparazione. Così come austera e imponente è la figura di Dante nei nostri ricordi scolastici, che incute soggezione e timore. Certo Dante è anche questo, ma i suoi versi meravigliosi evocano in ogni italiano anche ricordi familiari, sia nei loro passaggi più sublimi, sia quando toccano aspetti più concreti della vita di tutti i giorni. Dante per me è un tenero ricordo personale, quando accompagnavo mia figlia alla scuola materna in macchina e le recitavo un canto dell'inferno, lei ascoltava tranquilla e sopportava con pazienza la lunga attesa del traffico romano. Ho scelto una terzina del canto 26 del Purgatorio. Due file di anime penitenti si incrociano lungo la settima cornice e si salutano baciandosi. Dante le paragona alle formiche, che quando si incontrano avvicinano i musi, si ammusano, scrive il poeta, forse per chiedere, Dante usa la parola spiare, notizie sulla loro via o sul loro futuro. Ecco i versi di Dante. Così per entro loro schiera bruna, s'ammusa l'una con l'altra formica, forse a spiar l'or via e l'or fortuna. Mi sembrano versi appropriati alla nostra condizione attuale. Siamo come tanti animaletti, tutti uguali, sovrastati dalla forza della natura. Ma troviamo in questi piccoli gesti quotidiani, come il salutarci con affetto, un segno della nostra comune appartenenza al mondo.